C'è un luogo dove il trasporto, la logistica, il made in Italy, l'innovazione, la formazione e l'attenzione per il sociale si incontrano per accendere un faro sulle eccellenze del nostro paese. Un luogo dove la cultura della sostenibilità è al centro del dibattito tra imprese e istituzioni. LetExpo, un luogo da vivere, un'esperienza, un posto che attraversa il presente per proiettarsi nel futuro. LetExpo, la fiera del trasporto e della logistica sostenibili. Ti aspettiamo a Verona Fiere dall'8 all'11 marzo. Un anno fa l'invasione russa dell'Ucraina, Meloni Putin ha fallito, Zelensky nel 2023 la vittoria, il mondo con il fiato sospeso sul nucleare. Stati Uniti non vogliamo il conflitto, la Cina propone un piano di pace. E' morto stamane Maurizio Costanzo, il popolare giornalista, conduttore televisivo, autore e sceneggiatore aveva 84 anni. Il ministro Musumece ha tutto campo, il piano del mare sarà il motore di crescita del sud per il paese e sul lavoro rivedere l'apprendistato, un meccanico ha la stessa dignità di un primario. 2022 positivo per i porti di Roma e del Lazio, a Civitavecchia cresce del 40%, la movimentazione di auto e del 20% il traffico passeggeri su traghetti. Prosegue la crescita del mercato di rimorchi e semirimorchi, a gennaio più 9,1% delle immatricolazioni, ma stagni necessari nuovi incentivi. Allarme siccità, riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, il primo marzo, acqua a rischio per 3,5 milioni di italiani, il ministro Picchetto in vista possibili razionamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un anno con il fiato sospeso. Esattamente un anno fa la Russia invadeva l'Ucraina e a 12 mesi da quel 24 febbraio le conseguenze ai diversi livelli sono enormi e per molti aspetti ancora difficilmente prevedibili. Con questa copertina abbiamo visto molti volti di cittadini ucraini, chi ha perso tanto, chi tutto, chi non c'è più. Secondo l'ONU sono oltre 7.200 i civili morti, 11.000 i feriti, 8 milioni coloro che hanno dovuto lasciare il loro paese. Il bilancio delle vittime tra i militari è invece incerto. Si parla di almeno 100.000 morti sia tra i russi che tra gli ucraini. Il 2023 sarà l'anno della vittoria, ha fermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi ha ricevuto ancora una volta manifestazioni di sostegno da parte di molti paesi dell'Occidente, tra cui anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vediamo un breve estratto del videomessaggio registrato dalla Premier in occasione del primo anniversario dell'avvio dell'aggressione russa. L'obiettivo di Putin era far capitolare l'Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel piano è fallito. Mosca ha dovuto fare i conti con l'eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà. L'Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l'identità europea e le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale varrebbe solo la forza militare e ogni stato del mondo rischierebbe di essere invaso dal proprio vicino. Non possiamo consentirlo ed è nostro dovere lavorare per arrivare a una pace giusta. Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini. L'Italia è dalla loro parte. A sottolineare l'eroica resistenza del popolo ucraino, anche la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, l'Ucraina prevarrà perché l'UE sarà al suo fianco e il nostro sostegno continuerà, ha affermato, mentre restano altissime le tensioni internazionali. Oltre ai timori rappresentati dalle minacce russe in merito al possibile utilizzo di armi nucleari, la NATO sostiene che la Cina potrebbe pianificare l'invio di armi a Mosca. L'Alleanza Atlantica giudica inoltre non credibile il piano di pace presentato da Pechino, che nel documento comunque invita le parti al dialogo, scongiurando la temuta escalation atomica del conflitto. Dopo un anno di guerra, dunque, la situazione resta quanto mai fluida. Ha complesso fare previsioni con l'avvio dei negoziati tra Russia e Ucraina, che sembra ancora molto lontano. L'incredulità di quel giorno è diventata consapevolezza macchiata di sangue. Il terrore di quelle prime ore si è trasformato nella normalità di ogni giorno. E ora, dopo un anno di guerra feroce, la gente dell'Ucraina aspetta con il fiato sospeso che i russi celebrino a modo loro l'anniversario di un'invasione rimasta incompiuta, di un attacco che si doveva risolvere in giorni, se non in ore, e che si è trasformato in un pantano, quasi in una beffa, per l'armata di Putin. L'intelligence di Zelensky segnala che le truppe russe stanno preparando provocazioni vicino al confine della regione di Cernyiv nell'Ucraina settentrionale, con il movimento di colonne e di soldati che indossano uniformi senza segni di identificazione e simili a quelle delle forze armate ucraine. Sono però giorni, se non settimane, che si parla di un'offensiva rafforzata, nell'est di fatto, già in corso. Intanto a Kiev le sirene sono risuonate di nuovo, squarciando l'attesa, ma una volta soltanto, e l'allarme è durato poco, poi, come consuetudine, ormai la conferma è arrivata prima attraverso i social. Non ci sono conferme ufficiali, ma che in queste ore la sicurezza sia rafforzata a Kiev, si vede ad occhio nudo, spiega chi conosce bene le dinamiche della città. Una presenza più massiccia delle forze dell'ordine, nuove telecamere di sorveglianza e anche i checkpoint sono aumentati in alcuni quartieri agli ingressi della capitale. Prenderanno il via la prossima settimana i lavori e i tavoli di confronto per la creazione del piano del mare, annunciato nei giorni scorsi dal ministro Nello Musumeci. Possiamo giocare un ruolo da protagonisti nella Blue Economy, pur sapendo quanto è importante la cooperazione con gli altri paesi, ha affermato oggi il ministro. Il Mediterraneo sta cambiando, è diventato da qualche anno mare di cerniera. Mare e porti sono un motore di crescita per il sud e per l'intero sistema paese. Musumeci ha poi sottolineato la necessità di potenziare l'interconnessione ferroviaria e l'intermodalità sia per le merci che per le persone. Non solo, Musumeci ha inoltre parlato di lavoro e giovani. Non si può condannare una generazione all'ozio, dobbiamo rivedere l'apprendistato. Ma torniamo a parlare della risorsa mare. I porti italiani diventeranno centrali dal punto di vista geopolitico e climatico, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha poi precisato le due dimensioni in cui si svilupperà l'economia del futuro saranno le grandi risorse marittime e quelle spaziali. Il mare è forse l'economia prevalente su cui il paese può scommettere. Veniamo ora al clima e all'allarme siccità già scoppiato nel nostro paese. La neve sulle montagne è dimezzata rispetto alla media stagionale. Fiumi e laghi sono in secca. Una situazione che ha indotto l'esecutivo a convocare per il prossimo 1 marzo una riunione d'emergenza sul tema, presieduta dalla premier Giorgia Meloni. È possibile che in alcuni territori si arrivi al razionamento dell'acqua, ha dichiarato oggi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratina. 3 milioni e mezzo di italiani rischiano di avere l'acqua razionata dai rubinetti. L'allarme lo ha lanciato nelle scorse ore l'Ambi, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, concorda. Il problema della siccità è grave, dice. Il 1 marzo si terrà un tavolo sull'emergenza idrica a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa ed estrema. L'Ambi diffonde un bollettino sconfortante della crisi. Neve sulle Alpi che si scioglie, laghi del Nord al minimo, poi in sofferenza, ma anche fiumi del centro che si seccano. In compenso, al sud, gli invasi sono pieni e bisogna svuotarli in mare. Per i consorsi di Bacino serve tappare subito i buchi degli acquedotti, perdono il 40% dell'acqua, e costruire nuovi laghi per accumulare l'acqua piovana. Ad oggi ne raccogliamo solo l'11%. La gravità della situazione acqua è inoltre finita per far passare in secondo piano l'annuncio al quale il governo teneva di più. Il Ministero dell'Ambiente ha inviato a Bruxelles la sua proposta di decreto sulle comunità energetiche. Dopo l'ok della Commissione europea, il provvedimento entrerà in vigore. Le comunità energetiche sono gruppi di persone, imprese, cooperative, enti locali, associazioni ed enti religiosi che si uniscono per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili. E su questo fronte, proprio oggi, il Ministro Pichetto ha precisato che l'obiettivo è la nascita di 15.000 comunità energetiche. La proposta di decreto, ha spiegato il Ministro, comprende due misure distinte. Da un lato, un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per l'autoconsumo. Dall'altro, uno stanziamento del PNRR di 2,2 miliardi per il finanziamento a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione per nuovi impianti nei comuni fino a 5.000 abitanti. Due, anche gli obiettivi del provvedimento, incrementare la produzione da rinnovabili e consentire risparmio sulle bollette energetiche di famiglie e imprese. Bollette che già dal prossimo mese dovrebbero subire l'effetto positivo non solo dell'andamento del prezzo del gas ad Amsterdam, ormai stabilmente attorno ai 50 euro a megawattora, ma anche del livello di riempimento degli stoccaggi. Se dovessero permanere le attuali condizioni climatiche, ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a fine inverno avremo oltre il doppio del gas stoccato rispetto all'anno scorso. L'aumento dei costi energetici comunque continua a riflettersi sull'andamento dell'inflazione nel nostro paese che pur rallentando a gennaio resta su livelli quanto mai elevati. Scende al 10% l'inflazione a gennaio con la frenata delle bollette. L'Istat li malastima preliminare confermando, nonostante il dato resti ancora due cifre, il netto rallentamento dei prezzi a consumo che a dicembre scorso avevano segnato più 11,6% annuo dopo il picco di più 11,8% raggiunto a ottobre e novembre. Su base mensile l'aumento si ferma allo 0,1%, rallenta la corsa anche il carrello della spesa. La dinamica dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona si attesta infatti a più 12% dal più 12,6% del mese precedente. Un dato che comunque resta alto e tiene imprese e consumatori in allarme. La discesa dell'inflazione risente infatti dell'andamento delle componenti più volatili dell'indice e si deve principalmente all'inversione di tendenza dei beni energetici regolamentati. In altre parole, al calo delle tariffe per l'energia elettrica a mercato tutelato e il gas per uso domestico. Le famiglie continuano a subire l'impatto del caro vita e la stangata sui portafogli è ancora pesante. Almeno 2.900 euro in più l'anno, calcolano le associazioni dei consumatori. Diamo ora uno sguardo all'andamento dei contagi da Covid in Italia. Secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi sette giorni si è registrato un lieve aumento dell'incidenza con 50 casi ogni 100.000 abitanti mentre l'indice RT risulta stabile a 0,91. Nell'ultima settimana i nuovi casi segnano un incremento del 3,8%. Crescono anche i ricoveri ordinari al 5,2% mentre cala all'1,3% l'occupazione delle terapie intensive. Ora una notizia di cronaca. È morto all'età di 84 anni Maurizio Costanzo, volto storico del giornalismo e della televisione italiana. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio a partire dalla mattinata di domani. Previsti invece lunedì i funerali alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Moltissimi in queste ore i messaggi di cordoglio giunti da parte di rappresentanti del mondo della politica e dello spettacolo. Cambiamo argomento e vediamo ora un servizio sulla sentenza del Tribunale di Pescara in merito alla tragedia del Rigopiano. Solo 5 condanne di cui 3 per responsabilità legate alla sicurezza stradale e all'agibilità del resort e 25 assoluzioni per la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto e distrutto il 18 gennaio del 2017 da una valanga, evento in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. Questo è il quadro della sentenza pronunciata nelle scorse ore dal GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea che in 12 minuti di lettura smonta l'inchiesta della locale procura durata 22 mesi, fa sparire il reato di disastro colposo e consegna ai parenti delle vittime e ai superstiti del disastro un verdetto ritenuto inaccettabile dai familiari che scatena la rabbia e il caos in aula. Una sentenza che non riesce a definire il modello di amministratore pubblico che aveva il dovere di prevedere la valanga ed evitare la tragedia come aveva auspicato il PM Giuseppe Bellelli. Alla fine risultano 10 anni e 4 mesi di condanne complessive rispetto ai 151 anni e mezzo chiesti dalla procura. Nessuna responsabilità è stata accertata per la mancata definizione della carta di localizzazione del pericolo da valanga. Veemente e viscerale la reazione dei parenti delle vittime e superstiti alla lettura della sentenza. Alcuni cercano di avvicinare il giudice probabilmente per tentare di aggredirlo tra le urla che si levano in aria e il pronto intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi e bloccare i più incattiviti. Restano così più di un dubbio e molte ombre sul processo come rilevato da Rossella del Rosso sorella di Roberto proprietario dell'hotel Rigopiano morto sotto la valanga e dall'avvocato Reboa che assiste alcuni familiari delle vittime. 2022 positivo per l'autorità di sistema portuale del Martirreno centro-settentrionale che ha chiuso lo scorso anno con quasi 15 milioni di tonnellate di merci movimentate in aumento dell'11,8% rispetto al 2021. Nel dettaglio per quanto riguarda il porto di Civitavecchia si segnala l'ottima performance del traffico dei passeggeri delle autostrade del mare che registrano una crescita del 20% annuo. Risultati più che positivi anche sul fronte delle merci e del traffico ro-ro con un incremento del 40,3% delle auto transitate all'interno dello scalo. Entusiasta il presidente della DSP Pino Musolino che ha dichiarato la strategia di diversificazione dei traffici commerciali sta portando i primi frutti concreti ha affermato all'orizzonte ci aspettano nuove opportunità di sviluppo e di crescita dei traffici commerciali e nuovi interventi infrastrutturali finanziati anche dai fondi del PNRR. Confermato lo sciopero nazionale dei porti indetto dall'USB per la giornata di domani le motivazioni alla base dell'astensione risiedono principalmente nella richiesta di maggiore sicurezza all'interno degli scali italiani a seguito dei recenti incidenti che hanno causato la morte di due portuali a Trieste e Civitavecchia. L'Unione sindacale di base chiede inoltre che il lavoro portuale venga riconosciuto come usurante e di assegnare alle ADSP il ruolo di controllo e sanzione in materia di organizzazione del lavoro. Sono poi previste manifestazioni contro tutte le guerre e contro il transito nei porti italiani delle armi destinate all'Ucraina. Dal mare al ferro problemi infrastrutturali lungaggini burocratiche inadeguatezza degli stanziamenti sono solo alcuni dei motivi alla base del ritardo italiano rispetto al trasporto ferrato europeo gravi anche le disparità interne al paese. Con i continui ritardi infrastrutturali treni poco frequenti le linee a binario unico la lentezza nella riattivazione delle linee ferroviarie interrotte, chiuse e dismesse e le risorse economiche inadeguate resta indietro il trasporto su ferro dell'Italia in Europa. La cura del ferro è lenta nonostante timidi miglioramenti e a pagarne lo scotto è ancora il sud Italia. Il rapporto pendolari a 2023 di Lega Ambiente sottolinea che nel mezzogiorno circolano meno treni più vecchi con un'età media di 18,5 anni in calo rispetto al 19,2 del 2020 ma più elevata degli 11,9 di quelli del nord e su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. In Sicilia le corse dei treni regionali sono ogni giorno 506 contro le 2.173 della Lombardia dove la popolazione è pari al doppio dei siciliani. La cura del ferro deve essere una priorità per il governo Meloni prevedendo 2 miliardi di euro all'anno fino al 2030 recuperabili dal bilancio dello Stato specialmente all'interno del vasto elenco di sussidi e le fonte fossili osserva l'associazione del Cigno Verde. Sono stati pubblicati i dati delle vendite dei veicoli rimorchiati nel mese di gennaio secondo le stime del centro studi e statistiche Unrai il mercato dei mezzi trainati ha registrato una crescita del 9,1% rispetto allo stesso mese del 2022. Secondo Michele Mastagni coordinatore del gruppo Rimorchi Semirimorchi e allestimenti dell'associazione questi dati confermano il positivo trend registrato nel 2022 prevedendo inoltre il ritorno alla normalità dei tempi di consegna a partire dalla seconda metà dell'anno in corso. Mastagna ha inoltre ribadito la necessità di nuovi fondi per gli incentivi al rinnovo del parco circolante che è ancora tra i più vecchi d'Europa. Era questa l'ultima notizia della giornata vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo buon proseguimento di serata. Let Expo Logistics Eco Transport Torna a Verona dall'8 all'11 marzo l'evento fieristico internazionale di Alice più green dell'anno oltre 100 appuntamenti per promuovere la logistica sostenibile con aziende istituzioni italiane ed europee ti aspettiamo a Verona Fiere dall'8 all'11 marzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti